Ben ritrovati amici di YouTube qui sul mio canale per un altro appuntamento. Naturalmente tutto dedicato al calcio mercato, tante notizie, protagonisti soprattutto i brasiliani. Ce ne sono tre che possono arrivare in Italia e cambiare il volto delle big. Giocano tutti? Piccolo indizio, piccolo spoiler sulla fascia. Vi lascio indovinare, perché chi sta vedendo il video magari vuol provare nei commenti a indovinare, e ne parlo tra poco. Intanto ho una parentesi, in tanti mi avete scritto che riguarda l'Inter della questione d'Enzel Dumfries, perché in Inghilterra sono uscite delle voci secondo cui Dumfries avrebbe chiesto la cessione, Dumfries vorrebbe andare al Manchester United che offrirebbe Wan-Bissaka in cambio. Ci sono stati dei contatti a giugno, a fine giugno lo United aveva chiesto informazioni per Dumfries, aveva proposto lo scambio per Wan-Bissaka, ha valutato 15, quindi scambio alla pari, l'Inter valutava Dumfries un po' di più, aveva detto eventualmente parliamo di Wan-Bissaka più un conguaglio di 5-10 milioni. In realtà poi quei dialoghi non sono andati avanti, perché durante l'Europeo Dumfries e l'Inter si sono riavvicinati in maniera importante, ci sono state delle dichiarazioni, ci sono state soprattutto dei fatti concreti e sensibili da parte dell'entourage del giocatore, per cui la richiesta del famoso stipendio di un quinquennale da 5 milioni era scesa poi a un quadriennale da 4, con l'Inter che è da un triennale da 4 e la salita a 4x4, e quindi totale intesa di massima raggiunta verbalmente, questo vi parlo di metà luglio. Come vi ho raccontato in tanti video, bastate che scorrete la timeline e li trovate anche che escono video quasi quotidianamente. Anche nei giorni scorsi vi avevo detto che ci sarebbe stato un appuntamento nel fine settimana, in realtà è slittato leggermente di 24 ore, non si sono visti nel weekend, si sono visti ieri, ovvero lunedì 5 agosto, per chi dovesse vedere il video magari tra qualche giorno è indifferita, oggi è il 6 agosto, sono le 20 e 36 minuti, 37 adesso. Quindi, Dunfri e l'Inter vogliono andare avanti insieme, perché ieri con ausilio i suoi agenti hanno manifestato ciò. Balla ancora qualcosina, stanno rimando i bonus, ma l'incontro è stato molto positivo e dovrebbe essere propedeutico tra fine mese e settembre per il rinnovo. Quindi al momento, sinceramente, però massimo rispetto perché i colleghi che hanno scritto, li conosco, sono anche molto bravi, autorevoli inglesi, però evidentemente forse è più un interesse del Manchester United, oggi l'Inter non ha questo segnale, quindi l'Inter è convinta di tenersi Dunfri, se rinnovare Dunfri, se a quel punto eventualmente un braccetto mancino per completare la difesa, se usciranno con Real Madrid c'è un attaccante a fine agosto, altrimenti la rosa è fatta e finita per essere competitiva su tutti i fronti. Adesso, vi ho lasciato un paio di minuti, qualcuno magari avrà indovinato, qualcuno no, parliamo dei tre brasiliani protagonisti del video di oggi che possono, Samba do Brasil, potremmo dire così questo video, se dovessimo dare un titolo, che possono sbarcare in Serie A. Allora, il più vicino, quello che è veramente a mezzo passo, è Emerson Royal. Il Milan conta di chiudere questa settimana, operazione da 15 milioni più bonus, stanno rimando gli ultimi dettagli, balla meno di un milione sui premi, sui bonus, insomma la sensazione che il matrimonio si farà e sarà celebrato. Emerson Royal sarà il nuovo terzino destro del Milan, in ingaggio intorno ai 2 milioni e mezzo, leggermente sembrava 2 milioni, invece dovrebbe essere 2 milioni e mezzo per 5 anni. E quindi Emerson Royal sarà il nuovo terzino del Milan, da capire se 4 più 1 o direttamente un quinquennale, sono gli ultimi dettagli da animare, ma è un'operazione al 90-95%, già imbastita e intavolata. Tanto che Milan gioca stanotte col Barca, in amichevole, tra stanotte e domani Milan conta di ultimare le ultime pratiche burocratiche col Tottenham, dopodiché il giocatore arriverà in Italia entro il fine settimana, probabilmente tra giovedì e venerdì. Tanto giovedì Milan presenta ufficialmente Pavlovich nel pomeriggio e a mezzogiorno, venerdì, sarà il Morata Day, conferenza stampa di presentazione del nuovo numero 7 milanista. In mezzo a questi appuntamenti ci dovrebbe essere anche l'arrivo di Emerson Royal, vediamo se per visite mediche firme di rito, insomma, ma comunque la strada è tracciata. Arriviamo invece ad altri due brasiliani, che sono due esterni, ma offensivi, che accendono maggiormente le fantasie dei tifosi di Juve e Napoli. Perché? Perché la Juve sta intensificando il pressing per Galeno. Qualcuno dirà, ma è brasiliano? Ma la Juve è già sorrita e il sdorto da extra comunitario. Sì, ma lui ha passaporto portoghese, quindi in realtà la Juve lo può prendere. No, perché così anticipo già qualche domanda che sarebbe eventualmente arrivata. Galeno, valutazione 40, ma trattabile a 30-35, magari con i bonus. Può lasciare il porto, Mattatore l'altra sera, una supercoppa portoghese, perdevano 3-0 dopo 20 minuti, hanno vinto 4-3, doppietta di Galeno, che è un giocatore che salta all'uomo, che ha qualità, è uno da 9-10 gol all'anno, 9-10 assi. Spiace molto a Tiago Motta, piace molto a Giuntoli. Il suo agente, Giuliano Bertolucci, è in Italia, ha parlato oggi con la Juve e ha dato la disponibilità. Si tratta di uno stipendio che dovrebbe essere intorno ai 3 milioni più bonus a stagione, quindi portante ma neanche così clamoroso. la Juve con Galeno ha fatto dei passi importanti, c'è il sì di Galeno, c'è la disponibilità di Galeno, adesso la Juve poi deve sedersi col porto. Naturalmente la Juve sta valutando anche la possibilità a Nico Gonzalez, la Juve comunque dovrà prendere due esterni, è chiaro che spendere per tutte e due diventa complicato, l'ideale per la Juve sarebbe prenderne uno e l'altro in prestito con diritto di riscatto, cioè prenderne uno pagandolo, acquistando lo titolo definitivo e l'altro in prestito con diritto di riscatto. Comunque, Galeno, Juve, contatti positivi. Domani, nel suo tour italiano, Giuliano Bertolucci incontrerà il Napoli per David Neres, vecchio pallino di Giovanni Manna che un anno fa, un anno e mezzo fa, lo voleva alla Juve. Non se ne fece nulla, l'ultimo anno al Benfica non è stato esaltante, è in uscita dal Benfica, ha avuto delle proposte non così esaltanti, si è parlato di PSV Eindhoven, si è parlato di Olympiacos, oggettivamente insomma uno come David Neres ambisce a uno dei top campionati e non gli dispiacerebbe venire in Italia. Su Neres, in Napoli sta ragionando concretamente, perché? Perché nel 3-4-2-1, 3-4-3 che sta impostando Conte manca un esterno e Neres potrebbe essere quel tipo di giocatore da affiancare a Politano e giocarsi il posto con l'esterno offensivo romano. Bisogna capire le condizioni del Benfica, bisogna poi capire Napoli quando venderà Osimè per sbloccare alcune operazioni economiche in entrata, Gilmour, Brescianini, Lukaku come sostituto appunto di Osimè, eventualmente Neres, ma c'è la disponibilità dell'esterno. Il Napoli fa sul serio, l'incontro di domani può essere propedeutico per mettere le basi verso questo acquisto. Allora vi chiedo, Neres, Napoli, vi piace come acquisto darebbe o quell'ulteriore salto di qualità a Napoli insieme a Lukaku, Brescianini, Gilmour, i giocatori già arrivati come Buongiorno, Rafa Marin, eccetera, Spinazzola per puntare allo scudetto. Galeno o Nico Gonzalez? O entrambi? Ma se doveste sceglierne uno solo, più Galeno o più Nico Gonzalez per la Juve, chi preferite, ditemi la vostra, amici bianconeri, amici nerazzurri, se avvicina il rinnovo di Dunfri, se siete contenti oppure avreste valutato, la proposta dello United di uno scambio con Juan Bissacca, lo United, attenzione, proponeva uno scambio alla Pari, l'Inter invece avrebbe avuto un conguaglio, quindi un conto magari avere il conguaglio, ma scambio alla Pari l'avreste fatto o avreste puntato su Dunfri se quindi siete d'accordo con la mossa di Marotta e ausilio di blindare l'olandese con il rinnovo sino al 2028 da 4 milioni a stagione, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, naturalmente al video. Ah, mici milanisti, in arrivo è Emerson Royale, sarà lui il nuovo titolare o alla fine zitto zitto Calabria si terrà al posto? Come la vedete tra Calabria e Emerson Royale, chi sarà il terzino destro titolare del milan, commenti, pareri, opinioni qui sotto nei commenti al video, in alto a destra la campanella, attivare per avere tutte le notifiche in tempo reale su ciò che viene prodotto e mandato online, qui lo vedete, mettete il pollicione se vi è piaciuto il video, anche se non vi è piaciuto, mettete l'uguale, ma se vi è piaciuto è meglio, se lo fate col cuore ci fa più piacere, condividete il video su Telegram, nelle chat di Whatsapp, spammate ovunque, sui vostri social, su Facebook, su Twitter, su TikTok, su Instagram, insomma dove vi pare, andate e moltiplicatevi e come dico sempre, più ci divertiamo, grazie per essere stati in mia compagnia, ci vediamo domani, naturalmente l'invito è sempre lo stesso, quello di iscrivervi al canale, non ci sono abbonamenti, tutto free, tutto libero, tutto gratis, perdete mezzo secondo, fate click, però ci date una soddisfazione, siamo quasi a 28.000, sarebbe bello arrivare a 30.000 per la fine dell'estate, chissà, zitti zitti, sottovoce, ci proviamo, ciao a tutti, a domani.